musica 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 bene è stato un'offside a terza ed è una pista delle basiche quelle principali quindi non è che sia molto lontana se dovete fare l'avventura non ci vuole molto è l'ultima quindi ci si mette un po' però non fare le cose fatte facile ci sto in fretta a farlo prenditi quello certamente mi tireranno missile anche a me tanto quella mission dei missile l'ho già fatta poi sono i primi due che stanno andando avanti ok il primo è pinstripe vabbè lui che fa il il grosso del lavoro per gli avversari asti ok asti è terzo poi se mi sopassa diventa secondo infatti mi ha passato vediamo se riesco a mantenere il turbo grazie eh comunque non ho mantenuto il turbo però almeno non ho perso molte posizioni questa volta ho fatto la curva senza frenare tira il missile tira il missile bravo quindi non lo tiri a me il missile sono primo bolla così non mi possono beccare allora il secondo e il terzo mi stanno inseguendo io ho la pozione di riserva così se mi colpiscono io mi tiro la pozione ecco mi stanno colpendo ok perfetto mi hanno colpito ora la pozione io l'ho detto io l'ho detto che l'avevi tirata eh vabbè comunque adesso ok manteniamo il turbo se riesco vediamo se riesco a vanno anche dopo la curva cosa che è molto difficile no non ci riesco prima c'erano riuscito a fare la curva senza frenare senza sbattere adesso non ci sono proprio riuscise ok tiriamo un'altra pozione così se non ci vuoi che la beccano anche questo vai vai dobbiamo arrivare primi noi siamo sicuri di arrivare prima la coppa è l'ultima coppa questa quindi se arriviamo primi qua le abbiamo battute tutti ovviamente devo fare anche difficile ma difficile me lo faccio per i fatti miei perché diventa lunga la questione ok quindi ve la faccio per i fatti miei perché sennò diventerebbe noiosa e lunga quindi non ve la faccio vedere però la faccio quindi vi assicuro che la faccio se ci provo se ci provo non è che ci riesca quindi farlo è un parolone però ci provo a fare a fare è difficile prima di smettere di finire di giocare quindi ce la faccio dai ci posso provare no è la cassa è la cassa dai però chi è che ha messo la cassa di sopra ma sono morto? no non mi ha battuto adesso alla fine no pinstripe no ok devo recuperare il pinstripe devo usare i poteri turbo mi devi dare qualcosa in più del turbo dai che lo passo dai che lo passo si si l'ho battuto si o per poco è perchè mi ha recuperato perchè sono caduto nel vuoto non si sa per quale motivo perchè forse ho poca spienta però l'ho battuto l'ho battuto quindi si si proprio così oh e vince i tonni ancora non è detto perchè manca la quarta gara però ci teniamo buona questa gara perchè è andata bene primo posto di 7 punti pinstripe 13 quindi si anche se comunque se ci avesse battuto non avrebbe raggiunto il nostro punteggio anche se magari arriviamo ultimi si però non penso di arrivare ultimo non penso adesso se arriviamo ultimi non ci batte lo stesso quindi siamo assicurati però non dovremmo arrivare ultimi anzi puntiamo alla prima posizione come sempre 64 monete prossima data ok ok l'ultimo è viale elettronico dovremmo arrivare prima che qua ci proviamo cerchiamo anche di mantenere il turbo che vorrei mantenere il turbo blu però non so se ci riesco quindi vi dico subito che se non ci riesco cioè non non pensate che debba riuscirci per forza beh sono primo adesso quindi vediamo di vai salta questo lungo salto guarda che roba che è stato grosso questo che mi piace questo salto no mi ha preso la 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 razzo ok stavo non l'ha dato davvero no non ho mantenuto il turbo beccati no ho vinto i razzi ho vinto le bombe a bucchiato e non ho razzo vediamo se cerco a tagliare ok ho dato un distacco con il blue fire qua sicuramente mantenere il turbo è è difficilissimo qua mantenere il turbo è un casino in tutta la pista in tutti i punti della pista però intanto ci sto provando quindi considerate che ci sto provando ok 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 vai tira quello siamo primi e quindi vabbè non distacco anche come se secondo è pill stripe vabbè non ho preso il turbo giusto non dovevo prendere la cassa però l'ho preso vabbè vabbè ci ho provato vabbè ci ho provato distacco quindi non dovrebbero uscire meno le tonte assolutamente se il primo attivativo che faccio per registrarvi il video perdo subito perché mi tocca rifare il video adesso nel secondo video invece nella seconda registrazione di questa coppa non ho perso c'è sono arrivato sempre primo no la piala ok me l'ho schivata ok se no se facciamo un grosso male se facciamo le gran male quindi è meglio schivare le piale anche se effettivamente non si fa niente la macchina che si fa qualcosa anche se non si danneggia comunque passiamo sotto perché è più sicuro io sono qua e loro sono ancora là dietro ancora alla 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 rotolata stavolta non prendiamo quello prendiamo il turbo ok vai niente che casse ma tanto non ce le porta niente sono davanti con un grande distacco quindi non penso che ci raggiungeranno se non penso che non prendo le bombe se riesco a fare della patria magari è meglio eh no sono caduto vabbè ho preso pure la scossa incredibile dopo salire sulle rampe era meglio era più sicuro vabbè tanto abbiamo ancora un distacco quindi non ci prendo non è che ho dato un bel distacco così nel caso di perdere tempo come adesso eh non ci recuperano quindi vabbè ok vai 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 si li ho accorciato vai ho lasciato la fiala anche se potevo risiedere per camera pure io ma non è successo quindi va bene passiamo sotto perchè è più sicuro anche se abbia la bolla dai abbiamo vinto ah abbiamo vinto tutte le coppe basta finite le coppe passiamo l'episodio faremo battaglia poi credo se la prossima c'è battaglia vedremo quando usciremo da questa coppe seconda è pinstripe adesso vediamo quando arriva fin ecco è arrivato adesso beh 76 punti pinstripe più 19 quindi abbiamo dato un bel distacco abbiamo dato 4 vittorie di fila quindi va bene è andata molto bene spero che vi sia piaciuto e niente spero che il video vi sia piaciuto quindi mi raccomando lasciate un like e un commento così mi fate sapere cosa ne pensate ho tanta moneta beh un po' dai poche sempre poche ma me la date dai beh prossimo coppa vinta che è l'ultima della coppa da vincere infatti abbiamo vinto tutte le coppe naturalmente c'è anche la rifiuta facile e la rifiuta difficile quindi devo farle tutte 3 però per adesso abbiamo vinto la normale le altre due le farò fuori video perchè quelle facili sono troppo noiose troppo facili magari sarà un po' di complicato sarà anche lì però è molto più facile di normale appunto è difficile è troppo difficile quindi non riesco a registrarvelo e poi è noioso di fare le stesse piste con la rifiuta suprema quindi per il momento facciamo ci sentiamo un po' nelle rifiuta normale poi naturalmente off camera mi farò la difficile e la facile perchè mi devo completare il gioco 100% quindi devo farlo assolutamente e fare anche i trofei quindi devo cercare di fare tutto non so se riuscirò a farlo in in video non so se vi farò vedere i trofei in video ma cioè vi dirò che li ho sbloccati in video ma non lo so perchè dipende se riuscirò a sbloccarli perchè non faccio un episodio per i trofei eh i trofei me li faccio però con i miei se non riesco a registrarli quindi non c'è problema vabbè andiamo avanti crash ha vinto quindi abbiamo vinto con crash e allora vi dico adesso abbiamo finito le coppe qua le coppe sono finite finalmente anche se comunque adesso mi cominciano già a mancare perchè io quando finisco la cosa mi manca giocarci ma farò la facile non è difficile quindi ci giocherò ancora quindi non c'è problema magari finirò la facile prima perchè la facile da completare prima e poi mi allenerò per farla difficile farò l'avventura in difficile poi farò tutte queste coppe difficili anche le cari singole in difficile anche le prova a tempo eh che non vi faccio un video perchè se no diventa noioso tutte quante abbiamo fatto coppa spazza è l'ultima che abbiamo finito in questi due episodi che vi faccio in due parti quindi due episodi credo di aver diviso in due episodi però non lo so eh adesso nel prossimo episodio faremo battaglia che è una metà diversa non ho mai fatto battaglia in ctr in defuse quindi non so come sia magari l'ho fatto una volta non me lo ricordo forse l'ho fatto una volta online però non è da un po' che non ci gioco quindi non penso di riconoscere di sapere come funzioni lo vedremo insieme magari ci si spiegherà niente però le dobbiamo fare tutte quindi tutte queste battaglie quindi faremo tutte queste qua tutte queste qua di crash di nito carte e crash di team racing quindi tutte le due varie varianti va bene senza dare troppi problemi al video e il prossimo episodio faremo le battaglie poi faremo caccianelli ctr e cristalli le provate poi le faccio per i fatti miei e quindi dopo quando ero a cristalli avrò finito i cristalli finirà la serie e dopo vi porto altri giochi altri giochi diversi tipo crash 3 che dovrei portarvi perchè ho fatto l'1 e il 2 e la stupenda il 3 cercherò di portarvi in modo diverso perchè voglio reagire in modo diverso rispetto a come ho fatto il primo e il secondo l'ho fatto l'esperto nel senso che sapevo com'era il gioco invece il terzo devo giocare come se non ci fosse avesse mai giocato e stupirmi di ogni cosa devo essere molto più spontaneo devo essere molto più recitativo devo essere molto più bravo a fare la mia parte per rendervi video molto più belli e io ci impegno per voi naturalmente quindi voi impegnati per il canale quindi guardate i video quindi gara di coppia abbiamo finito vi faccio vedere tutte quante tutte quante fatte quindi la faremo battaglia la prossima volta quindi vedremo magari non ve la registro subito magari aspetto un po' cioè dopo perchè quando vi registro io vi registro due o quattro episodi di fila e quindi vi porto avanti e quindi posso registrarvelo un po' più avanti adesso dovete registrarvi anche il God of War quindi spero di trovare il tempo di registrarvi God of War quindi vi appronterò a fare anche quello e tonte avete capito che era God of War il gioco che io volevo fare quindi va bene quindi guardatelo mi raccomando che vi le porto per voi e ve la porto in una nuova difficoltà quindi è diverso è più difficile non so se riuscirò a vincere magari perderò un sacco di vite ma riuscirò a passare quindi spero di riuscire a farlo battaglia è il prossimo obiettivo quindi spero che il video vi sia piaciuto quindi mi raccomando like se il video vi è piaciuto un commento adesso guarderò se il video ha l'audio registrato bene un commento per dare la vostra opinione condividete il suo canale e nel prossimo video a presto a presto a presto a presto